Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera reto autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiata per il fondo stradale dissestato al chilometro 45 tra San Casciano Sud e Bargino in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonteblanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bistiberina tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord. Per questi lavori è attivo uno scambio di carreggiata tra Canili e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Viterbo Terni. Riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud verso Ravenna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni di Firenze. Buon viaggio!